La moto falciatrice Mini F352 è stata studiata per il taglio dell'erba del prato della casa di campagna, del frutteto o nel vigneto e per l'alimentazione animale. La macchina inoltre si trasforma con l'applicazione dei suoi utilissimi accessori. La spazzola frontale è registrabile di 105 cm. La lama neve di 85 cm con catene. La fresa anteriore è di 50 cm. E il tosa erba falciatutto registrabile di 53 cm. Grazie. 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 Grazie.